L'istituto professionale in Audi indirizzo design e grafica pubblicitaria offre agli studenti la possibilità di acquisire competenze nell'ambito della promozione dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo di differenti mezzi di comunicazione e di programmi strumenti informatici puntando alla realizzazione di un progetto grafico pubblicitario. Gli studenti svolgono esperienze di alternanza scuola lavoro presso aziende nel settore della grafica, del web marketing, web design, studi di grafica, agenzie di design, studi fotografici, agenzie di digital e social marketing, agenzie di comunicazione multimediale. Sono protagonisti di progetti innovativi di grafica e web design, partecipano ogni anno alla gara nazionale di grafica, possono conseguire oltre al diploma quinquennale la qualifica triennale di operatore grafico, operatore al punto vendita, molto utile per un immediato inserimento lavorativo. Hanno accesso all'istruzione universitaria, a corsi post diploma oppure possono essere indirizzati all'impiego presso studi di design, studi fotografici, agenzie pubblicitarie di comunicazione, web marketing, digital e social marketing. Vi aspettiamo numerosi!